ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale io sono marco oggi siamo tornati con un nuovo video ma come al solito come vi chiediamo sempre prima di iniziare a parlarvi di questo nuovo argomento mi raccomando ragazzi continuate a sostenerci lasciando subito un bel like con una bella iscrizione al nostro canale attivando la campanella delle notifiche e lasciate un commento in questo caso se vi piace questa serie di video e soprattutto cosa ne pensate dell'italia questi europei infatti ragazzi oggi andremo a parlarvi di un video molto particolare l'avrete sicuramente già visto dal titolo come gioca manuel locatelli vorrei fare semplicemente una premessa prima di iniziare a parlarvi di questo nuovo argomento diciamo che il mio interesse principale nelle prossime settimane è quello di andare ad analizzare come giocano determinati calciatori ma non attraversi come giocare alla quindi andando al campo provando a fare le cose facendovi vedere come funziona come fa un calciatore tutto più che altro perché non riuscirai ad analizzare in maniera completa un calciatore predeterminato un calciatore definito in questo caso infatti vorrei andarvi a parlare di manuel locatelli iniziando a parlarvi della sua storia parlandovi del suo ruolo e successivamente andando a parlare delle sue caratteristiche tecniche dunque cosa locatelli fa in campo come lo fa e così via mi raccomando ragazzi spero che questo video vi possa piacere comunque commentate scrivendo quello che ne pensate fatemi un po sapere datemi un feedback più che altro per sapere se volete che continui così anche nelle prossime settimane portando un'analisi questo mi piacerebbe portare delle analisi su dei calciatori in modo che la gente guardi e dica effettivamente il calciatore si comporta così in modo che conosca anche proprio la storia del calciatore e che conosca dunque le sue caratteristiche tecniche detto questo ragazzi oggi andremo a parlarvi di manuel locatelli sicuramente l'avrete capito manuel locatelli questo giocatore che sta stupendo molto in questo campionato europeo non solo ha stupito lo pubblico italiano ma anche andato ben oltre tutte le varie aspettative che si potevano prevedere su di lui in quanto sta giocando un grandissimo europeo è forse uno dei centrocampisti centrali migliori che abbiamo visto in questo europeo e oggi andremo appunto ad analizzare la sua storia calcistica andremo ad analizzare il suo ruolo e le sue caratteristiche tecniche la prima domanda alla quale andremo a rispondere è chi è manuel locatelli sicuramente un ragazzo molto giovane essendo nato soltanto nel 98 però ha già molte esperienze in serie a se ve lo ricordate esordì con la maglia del milan prima sotto brocchi poi sotto montella sotto montella poi giocò sempre meno perché comprava se non sbaglio lucas biglia quindi lo spazio anche per lui cominciò a non essere più quello di prima però fu famoso il suo gol il primo quando permise al milan di battere 4 a 3 al sassuolo in una partita veramente pazza dove se non sbaglio il milan perdeva 3 a 0 quindi veramente con un bellissimo gol da fuori area dal limite dopo un calcio d'angolo tirò al volo veramente fece un gran gol e soprattutto tutti ce lo ricordiamo per la vittoria 1 a 0 contro la juventus che in quel momento celebrò lucatelli forse un po' troppo secondo me perché si pensò che potesse essere il nuovo pirlo il nuovo centrocampista centrale titolare del milan nuovo regista e tutto però poi dopo secondo me ha subito un po' questa pressione anche lui stesso lo disse qualche mese fa di avere un po' patito tutto quel pressing mediatico che c'era nei suoi confronti dopo quell'esperienza sicuramente con montella come ho detto giocò sempre meno fino a quando venne gli venne data più che altro la possibilità di andare al sassuolo e tutti conosciamo il progetto sassuolo in grado di valorizzare nella miglior maniera possibile i giovani ovviamente secondo me ha avuto un grandissimo impatto de zerbi a farlo crescere sempre di più anche spostandolo un po' non soltanto facendolo giocare come classico regista ma proprio facendo giocare anche come mezzala come trequartista spostandolo dunque in campo per farli trovare la sua posizione ideale detto questo l'anno scorso si è sicuramente consacrato come uno dei migliori centrocampisti italiani e non peraltro fa parte della spedizione di euro 2020 e non peraltro sta giocando un grandissimo campionato europeo a livello di nazionale è stato capitano della nazionale under 21 sicuramente ha giocato sempre molto bene però io penso che il salto diciamo di qualità l'ha fatto adesso non soltanto nell'under 21 era un pilastro però adesso si sta dimostrando come uno dei migliori centrocampisti nonostante il centrocampo dell'italia presenti dei centrocampisti come giorginio come barella come verratti ma lui sta giocando al top sta giocando forse oltre ogni aspettativa e sta giocando un grandissimo campionato europeo detto questo una piccola diciamo conclusione legata al futuro di locatelli in quanto si parla molto che possa andare alla juventus vedere un attimo quale sarà il suo futuro sicuramente il mio consiglio è quello di andare e giocare sempre di andare in un top team anche se avrà la possibilità per giocare sempre non so se la juventus sarà quel team però la cosa importante per un centrocampista così giovane giocare al milan non ha avuto questa possibilità mi mangio le mani perché mi dispiace non vedere più un ragazzo così giocare nel milan però quando gli è stata data la possibilità al sassuolo quando gli è stata data la possibilità all'italia lui ha sempre confermato il suo potenziale siamo arrivati ragazzi al secondo step di questo video quindi abbiamo analizzato un po la sua storia come calciatore adesso andiamo a preoccuparci in più del senso tattico di locatelli quindi dove gioca manuel locatelli inizialmente si pensava essere un regista secondo me classico regista di centrocampo in grado di smistare i palloni un po fermo comunque fatto il suo ruolo il suo lavoro da passaggi corti alternati con passaggi più lunghi e così via io penso che sia al milan poi è stato anche adoperato in altre posizioni come mezzala per esempio sia al sassuolo dove ha ricoperto praticamente tutti i ruoli ci mancava soltanto l'esterno alto e la punta lui ha dato secondo me la prova di poter giocare in tutte le posizioni del centrocampo quindi sia classico regista nel 4 3 3 quello che sta un po più indietro quello che fa da mezzala quello che fa la mezzala di spinta e di quantità o di qualità quindi sicuramente un calciatore molto completo il suo ruolo è classico centrocampista centrale a tutto campo perché ha dimostrato di alternare ad un'ottima tecnica questo non andremo a vedere poi dopo nella terza parte di questo video un'ottima capacità di resistenza quindi locatelli si fa vedere in ogni parte del campo è sempre presente molto propositivo l'abbiamo visto anche con la nazionale veramente è un centrocampista a tutto fare che sicuramente si sta adattando nella miglior maniera possibile al 4 3 3 sia quello che è stato di De Zerbi vedremo adesso se col sassuolo sarà sempre così anche se lui rimarrà sempre al sassuolo sia con la nazionale di Mancini per quello che riguarda la terza parte di questo video è la parte dove andremo ad analizzare com'è lui tecnicamente abbiamo visto che locatelli tanto ha una tecnica sopraffina secondo me perché in grado di calciare sia col destro sia col sinistro abbiamo visto che è un calciatore in grado di poter calciare sia da distante sia da posizioni più ravvicinate veramente ottima tecnica nel controllo palla molto abile a liberarsi al tiro veramente un centrocampista molto completo secondo me può essere ovviamente il futuro l'abbiamo visto della nazionale sia come alternativa per esempio a Verratti come mezzala sia anche come alternativa stessa a Giorginio però ovviamente in maniera un po più propositiva in quanto lui è dotato anche di un enorme fiato di un enorme polmone capacità polmonare proprio in grado di poter correre per tutto il campo senza stancarsi mai inoltre come abbiamo detto avendo grandissima capacità tecnica lo abbiamo visto al tiro molte volte anche da fuori abbiamo visto che è anche riuscito a segnare ottimi suoi tiri colpisce sia di collo dando molta potenza al pallone ma è in grado anche di calciare bene a giro comunque di piazzare molto bene la palla ce lo ricordiamo anche essere un buonissimo calciatore per quello che riguarda i tiri al volo come ho ricordato un po prima il gol il primo gol che fece in serie a con la maglia del milan contro il sassuolo stesso quel calcio al volo appunto dal limite dell'aria che secondo me è segno di una grandissima tecnica individuale ma nonostante dal punto di vista tecnico sia veramente buono come abbiamo detto anche dal punto di vista della corsa se la cava molto bene è sempre presente rappresenta secondo me un po le caratteristiche di fisiche di barella dal punto di vista del fiato sia le caratteristiche tecniche di calciatori molto completi come possono essere Verratti e Giorginio per questo secondo me non stupisce il fatto che stia andando molto bene all'interno della nazionale perché si è calato alla perfezione nei panni della mezzala gioca molto bene è in fiducia dal punto di vista tecnico è molto forte come abbiamo detto prima si fa sempre vedere lo abbiamo visto anche fare il lancio come nel caso del primo gol se non sbaglio della seconda partita che si è liberato ha fatto il lancio per Berardi e si è trovato in mezzo veramente un grandissimo gol ma non soltanto un grandissimo gol proprio anche una grandissima visione di gioco perché non basta semplicemente fare il passaggio ma lui è in grado anche di proporsi molto bene quindi non è il classico regista come si pensava all'inizio forse della sua carriera ma lui è una mezzala completa riesce a correre a impostare il gioco e a farsi vedere cosa gli si può chiedere di più quindi ragazzi il video legato a manuel locatelli è finito io mi auguro che questa nuova serie vi possa piacere anche proprio per andare a vedere come giocano i vari calciatori per andare a capire quali sono i suoi segreti secondo me locatelli dal mio punto di vista personale rappresenterà il futuro della nostra nazionale si merita un top club io non riesco a trovare nessuno nella nostra nazionale o comunque calciatore italiano che possa avere le sue qualità perché è tantissimo completo per esempio barella dal punto di vista diciamo che può esserli complementare sicuramente presenta ulteriori caratteristiche molto più fisico anche in grado di nell'uno contro uno di saltare locatelli è molto tecnico secondo me deve magari migliorare ancora dal punto di vista della grinta anche se ha dimostrato essere un calciatore che non molla mai questo è sicuramente un aspetto molto importante per un centrocampista centrale io penso proprio che nel corso del suo futuro deve trovare una squadra che punti in lui perché lo abbiamo visto a sassuolo probabilmente gioca molto in fiducia sa che ha l'appoggio da parte dei suoi compagni sa che ha l'appoggio da parte del mister sa che ha l'appoggio della società però lo abbiamo visto anche nella nazionale che magari all'inizio era un po' titubante adesso l'abbiamo visto proprio essere un trascinatore della nostra nazionale prende sempre più fiducia si merita un top club di sicuro so che può dare tantissimo e secondo me è un grandissimo rimpianto che il milan lo abbia dato via in questa maniera perché lui si meritava di rimanere lì secondo me ovviamente detto da un milanista però io spero proprio che faccia la differenza come la sta facendo nella nazionale e che sarà un pilastro dei prossimi anni come abbiamo detto ragazzi il video è finito mi raccomando se vi è questo video se vorreste vedere dei video ulteriori di questa serie come gioca un determinato calciatore scrivetecelo nei commenti scriveteci nei commenti cosa ne pensate ma soprattutto lasciate un bel like e iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche un saluto da marco dai free kicks italian ciao a tutti